Amici di YouTube, ben trovati a Marco Liguori, tremendo dramma per il figlio di Albano. Seguite questo video, in questo video scoprirete cosa è successo e prima di iniziare vi ricordo che a 400 like pubblicherò immediatamente un nuovo video. In questo video torniamo a parlare di Albano e Romina, la coppia più amata dagli italiani nel 2024. Pubblicheremo tanti contenuti su questa splendida coppia e a breve comunicheremo anche l'annuncio della nascita del quarto nipotino di Albano e Romina. Romina Carrisi Junior dovrebbe partorire proprio nel mese di gennaio, ma come si dice amici di YouTube questa è un'altra storia. In questo video parliamo del dramma di Iari Carrisi che si è esibito con Romina Power a L'anno che verrà condotto da Amadeus. L'esibizione di Romina Power e Iari ha suscitato pareri discordanti, tanti sono stati complimenti, tanti gli elogi. Ricordiamo che Iari Carrisi è un bravo e talentuoso musicista, ma dobbiamo registrare anche tante critiche al figlio di Albano, ne leggiamo alcune e ovviamente edulcoreremo il contenuto alquanto colorito, la certezza che il 2023 verrà ricordato come un anno di M. Ha trovato conferma con l'ingresso in scena di Iari Carrisi. Portatelo via, questo purtroppo è stato soltanto uno dei tantissimi commenti e una delle tante critiche che ha ricevuto Iari, ma in questa sede spezziamo una lunch proprio per il bravo e talentuoso figlio di Albano Carrisi che a mio parere è un buon musicista, pertanto il prima di Marco Liguori trova le critiche un po' gratuite, ma il mio parere, cari amici di YouTube, conta il giusto. Scrivete nei commenti voi cosa ne pensate, critiche nei confronti di Iari Carrisi, giusto? Oppure no? Scrivetelo nei commenti. Amici di YouTube, io vi ringrazio per l'attenzione, lasciate il vostro commento, iscrivetevi al canale, rispondete al sondaggio, qualora vi piacciono i sondaggi, date un'occhiata alla playlist dei sondaggi del primo anno di Marco Liguori.